Tutte le infrastrutture delle Marche accessibili e consultabili sul proprio smartphone. Questo sarà possibile grazie a Geomarche 2032, un'applicazione all'avanguardia predisposta dall'assessorato alle infrastrutture della regione Marche, che ha l'obiettivo di abbattere i tempi burocratici per cittadini, professionisti, amministrazioni pubbliche e imprese. Grandi infrastrutture presuppongono anche la compartecipazione dell'opinione pubblica e la consapevolezza di quello che si sta realizzando nella nostra regione. La nostra è una regione che non è abituata a pensare alle infrastrutture e oggi che ci sono tante opportunità e ci saranno fra poco veramente tanti cantieri, è giusto che la comunità sia consapevole e partecipi attivamente insieme agli enti locali a questo processo di rinnovamento e anche di potenziamento del nostro territorio. Geomarche 2032 è uno strumento di informazione e di lavoro dove è possibile visionare le trasformazioni del territorio negli ultimi decenni, calcolare distanze, aree e pendenze, lavorando direttamente sulla mappa digitale e caricando sul portale qualsiasi informazione georeferenziata di cui si è in possesso. Si tratta di uno strumento di democrazia digitale e di grande trasparenza, ha detto l'assessore Baldelli. Oltre 1270 cantieri che possono essere monitorati, sia quelli realizzati direttamente dalla regione che quelli realizzati dagli enti locali, province e comuni con partecipazione e contributo diretto della regione e nonché altri interventi finanziati dalle grandi società di Stato, pensiamo a Ferrovia o ad Anas. Il Geoportale è disponibile in due versioni, una informativa portata di tutti e per tutti i cittadini e una professionale per i professionisti addetti ai lavori, vi si accede liberamente dal sito ufficiale della regione Marche, cercando nel settore infrastrutture. Oggi il nuovo strumento è stato presentato ai sindaci del territorio, ma anche a ingegneri, architetti, geometri e geologi iscritti agli ordini professionali delle Marche. Questo strumento di democrazia digitale è così avanti a così tante potenzialità che alcune altre regioni sono interessate ad acquisire la nostra esperienza proprio sul dato comunicativo, perché è uno strumento di grande trasparenza voluto dal Presidente Acquaroli e dall'assessorato alle infrastrutture in un'epoca, quella digitale, in cui le informazioni o meglio le fonti delle informazioni non sono sempre attendibili o individuabili. In questo caso entrando nel geoportale Marche 2032 che ha una versione informativa e una versione professionale comunque accessibile a tutti, ti permetterà di avere la certificazione della fonte dell'informazione che è la regione Marche.